Nel programma del Summerfest, l'amministrazione comunale di Avellino ha pensato anche ad alietare gli anziani nelle case di riposo. Un messaggio di speranza e un abbraccio tra le note nel rispetto delle norme anti-covid per chi come gli ospiti delle strutture per la terza età hanno dovuto subire in modo particolare le distanze provocate dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Nelle immagini lo spettacolo organizzato da Nico Meoli a Roseto, il repertorio dello showman Avellinese ha entusiasmato gli ospiti del complesso di Via Zoccolari, una ventata di spensieratezza che spesso accarezza gli anziani della struttura avellinese grazie agli eventi promossi nell'auditorium RECITAL, concerti e animazione curati con professionalità e amore dalla direzione e dallo staff della casa di riposo, cara l'indimenticato padre Innocenzo Massaro. Sono più di vent'anni, per me è la parte più interessante e più che tocca al cuore del lato musicale, cioè di quello che è la mia attività. Cantare per gli anziani, cantare per le persone fragili in generale, perché io faccio anche ospedali e quant'altro è una sorta di benessere che si prova dentro, non è questione di dare spettacolo per il pubblico ma delle persone che rispondono con le canzoni belle che tu gli trasmetti cantandole. Lo hai fatto anche, lo stai facendo ai tempi del Covid, anche quando c'era il lockdown? Sì, l'ho fatto anche facendo una festa di centenario sul balcone perché non si poteva chiaramente entrare nell'RSA e festeggiamo un centenario dal balcone che fu molto apprezzato anche che poi una notizia che sta rifinando sui giornali fu vista anche dalle persone del nord che hanno apprezzato questo modo nostro del sud. Si è andato addirittura anche all'esterno dei centri dell'RSA chiusi durante il lockdown. A portare un po' di allegria, diciamo così, perché la canzone, specialmente quella classica italiana e quella napoletana, ispirano tutte, specialmente queste persone, fanno venire la voglia di vita, di vivere, portano un buon umore ed è una buona tendenza. E gli anziani del Roseto come stanno vivendo questo suo concerto? Alla grande, alla grande perché rispondono bene con i loro applausi, cantando le canzoni insieme a me partecipano perché poi le canzoni che io vado a cantare in questa fascia di età sono quelle che loro ricordano che ogni canzone ha un pezzetto della loro vita, della loro storia, quindi le ricordano benissimo. Io di questo sono fiero.